Così è scritto in Isaia 43 il verso primo. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore. O Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele, non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Questo verso è ricco di grandi significati. Cercheremo di analizzarlo, proprio di scorrerlo e affrontare, anche se parzialmente, alcune delle verità che sono in esso contenute. Anzitutto, per comprendere il valore di un'affermazione che noi leggiamo nella parola di Dio, dobbiamo fissare l'attenzione proprio al modo in cui il Signore, Dio, presenta, introduce questo capitolo. E questo vale chiaramente per questo verso che stiamo analizzando, ma vale per l'intera parola di Dio. Ma è importante soffermarsi, è importante pesare ogni singola parola, perché ogni singola parola ha un grande, imponente significato che dà valore al messaggio in esso contenuto. Ecco perché la parola di Dio deve essere meditata, perché nella meditazione la parola di Dio apre i suoi tesori alla comprensione delle nostre menti. Ma ora così parla il Signore. È importantissimo questo. È un richiamo a colui che ascolta, a colui che legge, a considerare il peso che queste parole hanno, a causa di chi è colui che le pronuncia. Colui che sta parlando e che seguirà facendo promesse e appunto rivelazioni, conforto. Colui che parla non è un uomo, per quanto potente, in autorità o saggio. Colui che parla è il Signore, cioè colui che siede sovrano nell'universo. Colui che ha il controllo, l'autorità su ogni cosa. Colui che con la forza della sua saggezza fa sussistere ogni cosa. È un po' come se Dio, prima di introdurre il suo discorso, volesse dire a chi ascolta, e quindi a noi in quest'oggi, considera bene chi è che sta parlando. Il tuo respiro, la tua vita, la vita di ogni singola cellula che ti compone, è sotto il mio controllo ed essa segue i miei comandi. Non c'è neppure una cellula che possa fare qualcosa o possa venire in essa qualcosa che non sia sotto il mio controllo. Io sono il Signore, io regno sovrano. La mia parola detta, la legge, che l'universo intero ed ogni sua parte segue. Affinché tu sappia che quello che io dico non è soggetto ad opinione, ma è verità assoluta, è certezza. Ed è una certezza che supera, va oltre, infinitamente oltre i tuoi sensi o la tua intelligenza o la tua comprensione. Sì che tu possa, come fece Giobbe in preda all'angoscia per la grande prova, mettere in dubbio. Chi parla, e poni ben attenzione a quel che segue, è colui che è verità assoluta e pura. La cui parola non può mai venire meno. E quindi, e quindi ascolta. Perché su queste parole che seguono la tua vita può avere un fondamento inamovibile. Così parla chi? Il Signore dell'universo. Capite, quando il Signore si presenta in questi termini, c'è un passo che dice la terra faccia silenzio dinanzi a lui, no? Perché è il centro, come poi vedremo, il creatore d'ogni cosa. È la verità. Pilato chiese a Gesù cos'è verità? E la verità l'aveva dinanzi. Era lì incarnata. Ed era il riferimento assoluto a cui ogni uomo deve porre attenzione. E quindi le parole che seguono, se noi meditiamo questa prima affermazione, così parla il Signore. Beh, allora ci deve essere questo religioso silenzio, questa attenzione. Perché? Perché ciò che segue è la verità assoluta, che non può incontrare dubbi. È la certezza, al di là, ripeto, di quello che i nostri sensi, la nostra intelligenza, può comprendere. Questa è la verità. Anche se tutto intorno a noi, anche se l'intero universo gridasse una verità diversa, tutte le loro voci sommate non avrebbero alcun valore dinanzi a colui che parla dopo aver detto così parla il Signore. Ed è questo il conforto della nostra vita. Ecco perché, dicevo, questo verso che è il primo che ho letto nella mia vita da credente, spesso è il luogo del mio rifugio. Perché quando tutto sembra agitarsi intorno a me, torno a questo passo e tutto diventa stabile e sicuro. Perché? Perché ciò che segue non l'ho detto io, non è opinione comune, non è un dogma religioso, è la voce del Signore del cielo e della terra. Ma ora così parla il Signore, il tuo creatore o Giacobbe, colui che ti ha formato o Israele. Ogni parola è pesata a giusta misura nella Bibbia. Vedete, questa non è semplicemente una ripetizione poetica come era uso fare negli scritti biblici. Qui c'è un valore straordinario. Vedete, voi sapete Giacobbe, Israele, furono i nomi del patriarca Giacobbe, figlio di Isacco. Giacobbe ha una storia interessante. Giacobbe vuol dire ingannatore, ma dopo mille peripezie, dopo un lungo percorso, le sue scelte, il suo modo di essere ingannatore incontrarono le mani di colui che lo aveva creato ma che attraverso la sua vita lo stava formando. Perché l'ingannatore assumesse un altro aspetto, un altro sembiante che non rimanesse Giacobbe l'ingannatore, ma divenisse Israele, colui che lotta con Dio e vince. E allora non è a caso che egli dica il tuo creatore Giacobbe, il tuo formatore Israele. Sono la stessa persona che rappresentano chiaramente il popolo di Dio che viene chiamato Giacobbe o Israele più volte nella parola di Dio, ma manifestano la duplice azione di Dio nei nostri confronti. Ogni uomo è stato creato da Dio e noi lo sappiamo molto bene e quindi quando egli si rivolge al mondo, al mondo intero, nel suo modo di essere, quel mondo, quegli uomini che si sono corrotti, che lo hanno abbandonato, che da creature che dovevano vivere in comunione con Lui sono diventati tanti Giacobbe, ebbene Dio è il creatore dell'uomo che ha scelto di divenire Giacobbe, ma egli è il formatore di coloro che si sono lasciati plasmare per mezzo della fede. Riesco a spiegarmi? Tutti gli uomini sono stati creati da Dio, io sono stato creato da Dio come colui che non conosce ancora il Signore è stato creato da Dio, ma io posso dire che il mio creatore è anche colui che ha formato la mia vita all'immagine di Israele, all'immagine di colui che mi ha riscattato. Riesco a spiegarmi? Ed è per questo che qui il Signore dopo aver detto ascolta attentamente quelle che sono le mie parole perché sono le parole di verità, le parole di Dio, comincia a scavare dentro di noi e vuole farci comprendere qualcosa di straordinario. Anzitutto la nostra origine noi non siamo frutto del caso come alcune teorie scientifiche vorrebbero affermare. Noi siamo il prodotto della volontà di Dio e sapere che io sono un progetto di Dio dà a me un grande valore, mi fa sentire bene, anche se so che sono a causa del peccato, divenuto estremamente difettoso, però so che Dio mi ha voluto perché mi ha creato ed Egli è colui che ogni cosa può perché ha dato vita a me ma c'è qualcosa di più eccellente che il Signore vuole mostrarci oggi che Egli ha fissato lo sguardo su di te sua creatura per formarti per darti un'altra vita un'altra speranza così così dice il Signore ti ho formato dopo averti creato perché ti ho riscattato per essere il mio tesoro particolare ti ho strappato dal mondo affinché tu acquisisca un'altra forma coloro e adesso lo vediamo che Dio ha chiamato li ha anche predestinati ad essere conformi cioè formati all'immagine di di Cristo ed è questa la grande chiamata meravigliosa per noi ecco perché qui in questo passo meravigliosamente Dio si presenta non solo come il creatore ma come il formatore chiamando le persone create Giacobbe ma le persone formate Israele coloro che hanno una comunione con Dio che hanno lottato con Dio che hanno vinto con Dio che hanno avuto quindi comunione con Lui che si sono confrontati direttamente con Lui e hanno vinto perché si sono arresi a Lui per essere sua proprietà ed è questa la meraviglia che caratterizza la vita di chi non solo sa di essere stato creato da Dio ma avverte le mani del vasaio che plasmano l'argilla questa terra senza forma per acquistare invece la forma che Dio vuole dare ai suoi figli questa è la cosa importantissima e poi lo vedremo perché perché Dio dà forma solo a ciò che è suo Dio dice non temere tornerò su questo perché io ti ho riscattato ti ho chiamato per nome tu sei mio l'eccellenza della nostra speranza sta nel fatto che Dio sta formando la nostra vita perché questo attesta che noi siamo suoi perché è così importante la santificazione perché viene detto or senza santificazione nessuno vedrà il regno di Dio la santificazione è l'azione dello spirito santo in te è l'azione della formazione del carattere di Cristo in te è la testimonianza più vera che Dio ha messo le sue mani nella tua vita per cambiare quel Giacobbe in Israele e se lo sta facendo lo sta facendo perché ti ha chiamato per nome perché ti ha riscattato dalla morte perché sei suo ed essendo suo egli ti vuole dare una bellezza unica e la bellezza unica che vuole formare in te è l'immagine di Cristo e questo più di ogni altra cosa testimonia che siamo suoi oh fratelli non smetterò mai di ripeterlo finché il Signore mi darà grazie di predicare l'ultimo mio sermone io vi ripeterò sempre che è il frutto della santità che attesta l'appartenenza a Dio non c'è altro non ci sono ricordi non ci sono schieramenti o appartenenza a questa a quella chiesa che possa attestare in modo inequivocabile che siamo suoi se non il frutto della santità che è il segno inconfondibile che egli ha messo le mani nella nostra vita e avendo messo le mani nella nostra vita ci dà la forma che egli gradisce perché perché ci sta preparando a trascorrere l'eternità con lui nel cielo laddove la gloria di Dio sarà dinanzi i nostri occhi ogni giorno e questo è la gloria nostra questa è la nostra passione questa è la nostra vita questa è la fonte della nostra gioia rileggete meditate questo verso e avrete sufficiente materiale per esultare di gioia perché è la verità che non potrà mai essere messa in discussione anche quando il tentatore verrà e metterà in dubbio la tua salvezza metterà in dubbio il progresso del tuo cammino metterà tutto in dubbio tu solo da questo verso potrai spegnere ogni dardo infuocato che egli scaglierà contro di te e contro la gioia della tua salvezza ecco colui che ci ha riscattati e questo è l'aspetto più più forte perché il prezzo del riscatto testimonia il valore che Dio ha dato alle nostre vite il diavolo viene sempre a dirci che non valiamo niente additando i nostri difetti ma non occorre che noi replichiamo sapete a volte il diavolo non è degno di ricevere neppure repliche è sufficiente che noi volgiamo per un istante lo sguardo alla croce solo un istante un attimo e vediamo lì il prezzo del nostro riscatto e il diavolo non potrà più dirti non vale niente perché noi fumo riscattati a prezzo a prezzo di quel prezioso sangue che Cristo ha versato per me quando decise di limitare la gloria sua infinita in un corpo umano per essere quel sacrificio che avrebbe poi riscattato la tua e la mia anima non valgo niente no no satana tu ha diti la mia persona io ha dito la persona di Cristo Gesù quando devo scoprire il mio valore tu vuoi che io volga volga lo sguardo verso di me per determinare il mio valore no non lo farò mai io volgo lo sguardo a Cristo per determinare il mio valore guarda Dio benedetto in eterno ha dato la sua vita per me e tu dici che non valgo nulla io sono stato riscattato acquistato a prezzo oh se ho valore ho il valore più alto che si possa trovare nell'universo io 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 il cui nome può essere sconosciuto a tanti molti possono dire ma di chi stai parlando chi è quel pastore chi è quel fratello non lo conosco ma non Dio perché per Dio non siamo un'unità nella massa Dio ci ha chiamato per nome perché ci conosce personalmente ci ama personalmente si relaziona con noi personalmente perché noi abbiamo un valore personale dinanzi a lui unico e irripetibile egli ci conosce per nome e di più ci darà un nome nuovo a ciascuno questo è meraviglioso come fa un padre con il figlio no il tuo nome lo scelgo io perché mi appartieni perché tu ho acquistato perché sei mio per l'amore infinito che ho per te io ti darò il mio nome quale amore fratelli quale gloria e questa non è la parola del pastore massimo zangari questa è la parola di Dio e il Signore ci ha chiamato per nome io spero io spero di cuore che che tutti quanti noi abbiamo sentito la voce di Dio chiamare il nostro nome o se me lo ricordo il giorno in cui il Signore mi ha chiamato il giorno in cui ha volto lo sguardo verso di me e mi ha detto io ti ho riscattato tu sei tu sei mio è venuto da me non da un altro da me e mi ha chiamato personalmente ha messo il suo spirito su di me per raccogliermi dopo aver pagato il prezzo del mio riscatto mi ha chiamato per nome con pazienza ma cercato ha lavorato il mio cuore e mi ha attratto a sé perché io fossi suo per sempre ed è questo il senso egli chiama egli paga il prezzo del riscatto perché noi possiamo divenire sua proprietà tu non appartieni più a te stesso non appartieni più a questo mondo non appartieni più a un modo di pensare a un modo di vivere che non ha nulla a che fare con il regno di Dio se Cristo ti ha chiamato tu appartieni a Dio in tutti i sensi appartieni perché sei chiamato a fare la sua volontà gli appartieni perché egli ti ha chiamato come figlio e tu ti rivolgi a Lui come figlio e come servo per compiere il suo volere ma appartieni a Lui perché ti sei separato da questo mondo per abbracciare tutto ciò che è suo e appartieni a Lui perché questo è l'unico vero modo per essere perfettamente al sicuro sicuro nelle sue mani la tua vita è nascosta con Cristo in Dio perché ma perché sei suo egli tiene nelle sue mani ciò che gli appartiene lo tiene stretto a sé egli dice nessuno ti rapirà dalla mia mano le braccia eterne di Dio sono sotto di te perché egli tiene stretto quello che ha pagato a prezzo del suo sangue non lo fa scappare non ha pagato quel prezzo per poi prendere l'oggetto come purtroppo si fa oggi e metterlo d'accanto o dimenticarlo nel ripostiglio egli ripone i suoi tesori nella sala dei tesori e si compiace di avere comunione di rinnovare la comunione con ciò che ha acquistato non c'è niente di più prezioso nella vita tu puoi misurare tutti i tuoi desideri mettili uno in fila all'altro tutto ciò che desideri tutto ciò che brami non valgono niente rispetto al poter dire io appartengo a Cristo perché allora e solo allora tu potrai dire non ho ragione di temere di nulla infatti lui introduce questa affermazione affermando non temere e perché ma perché io ti ho riscattato ti ho chiamato per nome tu sei mio non puoi temere di che temi sei nella mia mano sei nella mia mano di che temi la potenza l'onnipotenza l'onniscienza la gloria di Dio e l'infinito suo amore sono su di te per governare la tua vita che cosa temerai se colui che siede sul trono dell'universo ti ha adottato come figlia come figlio non temere perché non appartieni più a questo mondo non sei più in balia degli eventi non sei più lontano non sei più schiavo sotto il principe di questo mondo o schiavo del peccato tu sei mio sei stato riscattato tu appartieni alla luce alla gloria niente niente potrà sconfiggerti starti a fronte resisterti perché in ogni cosa io ti porterò in trionfo perché perché tu sei mio né vita né morte né cose presenti né cose future aggiungo una cosa né cose passate potranno separarci dall'amore di Dio eh dall'amore di colui che ci ha tanto amato che ha dato se stesso e concludo con una breve testimonianza che ho ascoltato ieri dal pastore Gennaro Chiocca un'anziana delle di una delle comunità eh per anziani appunto che è gestita dalla sua chiesa si è ammalata di covid all'età di cento anni e è andata in ospedale ha passato un periodo in ospedale ed è poi rientrata in nella casa famiglia e lei diceva al pastore con una lieve nota di disappunto ma perché il signore non mi ha chiamato ma se non mi ha chiamato adesso quando mi chiama ho cento anni ho avuto il covid io ci speravo ci speravo di andarmene ci speravo di di salire su con lui oh quanto l'ho desiderato le vita le morte niente fa più paura perché la nostra vita è custodita con Cristo in Dio l'ho desiderato l'ho desiderato l'ho desiderato di salire l'ho desiderato l'ho desiderato l'ho desiderato l'ho desiderato